Siamo qui per lottare contro l'azienda, per la privatizzazione e per i problemi che esistono in poste italiane, per la chiusura degli uffici postali, per la carenza di personale, per tutti i problemi che esistono e non dare agio alla clientela di lamentarsi. Abbiamo un solo motto comune, quello di dare a tutti massima fiducia, massima trasparenza e dare a tutti i pensionati la possibilità di continuare a prendere le loro pensioni e non con le chiusure che non sapranno poi dopo, domani in poi, dove andare.